Il progetto Rai in carcere si occupa di trattare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno delle carceri di Bologna, Ferrara e Forlì per sostenere il lavoro di persone detenute che si stanno avvicinando al fine fine e rientreranno nella società. Il sito web www.raincarcere.org è gestito da alcuni di questi ragazzi, ex detenuti, ex detenute che lo curano e si occupano di valorizzare il progetto. Noi lo finanziamo con le risorse di alcuni secondari importanti del progetto e sarebbe interessante lanciare una campagna di crowdfunding per sostenere ancora di più la presenza di questi ragazzi nel progetto e dargli ancora più chance di crescita delle competenze e quindi di sostenibilità del loro lavoro a lungo termine.